60 nuove aperture nel centro storico dell'Aquila soltanto nell'ultimo anno e il dato positivo è che non si tratta più soltanto di bar, ristoranti o pub, ma torna seppur timidamente il negozio di vicinato. La prima categoria ovviamente rappresenta ancora la maggioranza, però il dato che sta emergendo fa vesperare per il futuro anche secondo l'assessore al commercio Alessandro Piccinini. Dati che vengono snocciolati da SUAP, lo sportello unico per le attività produttive del comune. Ci sono state richieste ultimamente per negozi di abbigliamento, parrucchieri e acconciatori. A settembre riapperà un altro storico negozio di abbigliamento in centro, tornerà un caffè a Piazza Duomo. Nell'elenco del SUAP compaiono tabaccherie, negozi di piante e fiori, un albergo in via del guastatore appena riaperto, negozi di profumi come per cellulari, telefonia e cosmetica. Per lo più si tratta di commercianti che fanno ritorno nel loro habitat naturale. La zona più attrattiva per il momento appare quella di Piazza Palazzo. Qui hanno riaperto negozi di abbigliamento, scarpe, gioielli ma anche di cosmetica. Oggi questo è diventato un punto di grande attrattività secondo l'assessore Piccinini e fra due anni, quando riaprirà anche Palazzo Margherita, le cose potranno andare soltanto ancora meglio. Purtroppo risulta carente il settore dell'artigianato, per questo l'assessore al commercio sta pensando anche a delle forme di agevolazione, magari utilizzando i fondi Restart, sulla scorta anche del negozio storico. Una figura introdotta dal nuovo testo unico del commercio, licenziato dalla regione Abruzzo. Tra l'altro le procedure per aprire oggi sono telematiche e se tutta la documentazione viene fornita nella maniera giusta, si può avere un negozio anche all'istante.